buongiorno a tutti benvenuti sul mio canale oggi inauguriamo la rubrica del 730 in pillole che cos'è il modello 730? il modello 730 è la dichiarazione dei redditi adatta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati è un modello molto semplice perché vi permette di poter detrarre o dedurre le spese intercorse nell'anno precedente è possibile andare a detrarre le spese di trasporto pubblico locale piuttosto che le spese sanitarie il mutuo l'affitto le spese della mensa il modello 730 in alcuni casi è obbligatorio andarlo a produrre è obbligatorio quando si effettua un lavoro di tipo lavoratore domestico quindi colfe badante quando si è avuto più di un'attività più di un lavoro nell'anno precedente quando si è avuto un lavoro piuttosto che la disoccupazione quando l'imposta non è stata calcolata nella maniera corretta dal sostituto d'imposta andremo poi nei prossimi video a parlare passo a passo di tutte quante le varie spese e andremo a verificarle con voi se avete delle domande in merito al modello 730 vi prego di scriverci qua nei commenti andremo a rispondere a tutti spero che il contenuto di questo video sia di vostro interesse e auguro a tutti una buona giornata